Che cosa vuoi? Ho un lavoro per voi. Mia figlia. Mamma! I miei nipoti. Voglio la mia vendetta. Non conosco nessuno qui. Chi può essere stato? Ci sono tre uomini. Uno mette il peso sul piede. Il peso sul piede è sinistro. E spara con la mano sinistra. Non ti preoccupare. Li trovi bene. Uno, due, tre. Vi hanno detto chi era il mandante. Il nostro capo. George Fon. Ma non ti preoccupare. Lavoriamo per te ora. Tu vuoi vendetta? Te lo ricordi questo? Te lo ricordi questo? Oh. Grazie a tutti.